La posizione unitare come Partito Democratico, visto che Bertrone è stato smentito da Fassina e ha litigato anche con Ventolo, qual è la vostra posizione? Quella dell'Assemblea Nazionale, io garantisco che è qui. Mi pare che abbiamo altre priorità. Quindi resta un tablumbo, come dire, Presidente. Signori, grazie. Non è un linguaggio politico.